Il concetto che volevamo comunicare quest'anno al forum è che il digitale ormai è trasversale, quasi tutte le persone utilizzano degli strumenti digitali, le volte anche senza rendersene conto. Per spiegare il concetto di New Normal in modo molto semplice posso fare un esempio. Quando fu introdotta l'energia elettrica, la luce elettrica, le persone accendevano e spegnevano le lampadine, additando la lampadina come una magia, erano stupiti di questa cosa così potente ed utile. Dopo qualche anno si accende e si spegne la luce senza neanche più farci caso, non è una cosa assolutamente normale ma effettivamente è una piccola magia. Ecco il digitale è la stessa cosa, internet è uno strumento potentissimo, veramente interessante, che ci abilita a fare delle cose straordinarie ma ormai non gli diamo più quasi neanche peso. Accendiamo il nostro smartphone, utilizziamo il digitale, ci sembra banale, utilizziamo i tablet, ci sembra banale, il computer è sempre acceso. Per noi New Normal è questo, il digitale che durante la giornata viene utilizzato tantissime volte senza dare più tanto peso alla cosa. Per noi gli eventi sono un solo pezzo dell'attività di Abel, il pezzo più visibile, quindi importante, ci dà visibilità, ci consente di parlare con le Odens ma è solo una parte della nostra attività. Noi in realtà siamo concentrati sulla formazione delle aziende perché vogliamo aiutarle, abilitarle e dargli gli strumenti per utilizzare sempre di più il digitale che deve essere una leva per migliorare le proprie performance, per ottenere dei risultati positivi, cosa che le aziende stanno facendo ma noi sappiamo che si può fare molto di più. Quindi noi siamo impegnati in questo. L'altra attività per esempio sulla quale abbiamo lavorato molto nel 2011, anche su indicazioni di Yab Europe, è quella dei public affairs. Noi, come dicevamo prima, vogliamo che la rete non sia un far west, ma vogliamo che le regole siano chiare, trasparenti, condivise e che non deprimano il mercato ma anzi lo stimolino, perché questo è uno dei pochi mercati in Italia che sta crescendo. Noi cresciamo del 15% e stiamo continuando a creare occupazione, quindi ci sembra il caso che il digitale sia incentivato. Il digitale si evolve in modo velocissimo, vi faccio qualche esempio, pensate solo a due anni fa, quante persone avevano uno smartphone? Pochissime. Oggi, abbiamo citato Steve Jobs oggi, ovviamente, abbiamo voluto ricordare oggi quanti iPhone ci sono in giro. iPhone significa in realtà, la magia, la cosa interessante dell'iPhone è rendere estremamente usabile il web, che diventa quindi new normal anche in mobilità. Quindi il digitale cresce, cresce per sua forza, voglio dire, non solo gli operatori. Gli operatori danno un contributo importante in modo che prosegua ad incrementare la quota dedicata al digitale in modo sano, ma in realtà siamo davanti a un fenomeno che ricorderemo tra 50 anni, di cui si parlerà nei libri di storia, e noi fortunatamente siamo su questo carro, mi sento di poter dire. Grazie.